La nuova normativa sulla privacy voluta dall'Unione Europea è stata al centro del focus organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli sul General Data Protection Regulation. All'iniziativa hanno partecipato Paola Zambon, coordinatrice del gruppo di lavoro privacy del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Amelia Scotti, presidente della Commissione Innovazione Sociale per l'imprenditorialità e Liberatina Santillo, ordinario della Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli. Il garante ha appena approvato, ci ha comunicato di aver appena approvato il protocollo che aggiorna la famosa Convenzione 108 dell'81. Per noi commercialisti è ovviamente una novità veramente eclatante, poiché era da anni che comunque eravamo abituati, facevamo appello a questa Convenzione per i diritti, che ci obbligherà oltre a seguire il regolamento, anche andare a lavorare meglio e quindi con più enfasi sugli obblighi di trasparenza che abbiamo, quindi come titolare o responsabili verso gli interessati, ma anche su tutto ciò che sono le procedure di violazioni cosiddetti data bridge, quindi sicurezza anche a protezione sempre di questi dati personali. In un ultimo avremo anche delle novità in campo alle decisioni automatizzate, che come sappiamo non sono diciamo previste, nel senso non sono ben viste dal regolamento proprio a tutela dell'interessato. L'Ordine dei commercialisti di Napoli ha voluto organizzare questo evento proprio per dare ai commercialisti e anche agli altri professionisti, non solo all'informativa della normativa di questo nuovo adempimento del GDPR che è stato già in vigore dal 2016, ma dal 25 maggio entrerà tutti gli effetti in vigore con tutte le conseguenze sanzionatorie e di controlli che potranno arrivare sia agli studi ma anche alle aziende. Per cui abbiamo voluto mettere oggi insieme professionisti esperti che possano dare non solo notizie sulla norma, ma anche quali saranno le attività operative da dover portare avanti per poter essere in regola con questa norma. Dal 26 maggio tutte le aziende che non si sono ancora messe in regola con la pravesi, che ricordiamo avevamo due anni di tempo per metterci in regola, siamo in qualche modo fuori legge, tra virgolette, perché non ci siamo usciti ad adeguare e quindi potrebbero essere tutte quante sanzionate con delle multe molto alte, perché non si sono messe in regola in questi due anni. Le opportunità offerte dalla nuova normativa sulla praiva si sono state al centro degli interventi di Vincenzo Tibi, consigliere delegato dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, di Simonetta Cavalieri, presidente della Commissione Easy Od Check Napoli e di Dina Cavalli, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. L'obiettivo in questo momento è far capire soprattutto alle aziende, oltre che ai professionisti che si occuperanno dell'attuazione del GDPR, che questa non è semplicemente una norma da applicare, ma è l'opportunità di rivedere i modelli di business e le organizzazioni da un punto di vista globale. Questa è la vera sfida. Sicuramente il nuovo regolamento privacy può essere anche un'opportunità per i professionisti e l'idea di creare dei momenti di studio congiunti tra dottori commercialisti e avvocati è molto importante perché abbiamo comunque dei profili di competenze diverse, ma che interagiscono perfettamente tra di loro. Ci sono nuove opportunità, ci sono nuovi scenari consulenziali, l'adempimento va gestito chiaramente con dovizia, diciamo, con molta attenzione, dovizia di particolare con molta attenzione, però al tempo stesso siamo critici sul fatto che entrano in vigore norme senza poi considerare assolutamente la strutturazione degli studi. Cioè auspicheremmo che i provvedimenti normativi che impattano sull'organizzazione degli studi professionali siano accompagnati da misure agevolative.